Alcune delle richieste di ANCI sono state prese in sensazione, sono state valutate positivamente, altre richieste di ANCI sono in fase di elaborazione, quindi è un po' strumentare voler mettere il caro davanti i buoi, cioè fare la polemica prima che si sia arrivata a una decisione. Comunque con l'ANCI l'interlocuzione continua, ci vedremo presto e evidenzieremo quali sono anche se ci saranno ulteriori concessioni alle loro richieste. Questo l'ANCI però nei confronti delle minoranze in regione? Beh nei confronti delle minoranze in regione vale lo stesso principio, noi continuiamo a parlare, ad ascoltare, a valutare partendo dal presupposto che però la legge andrà nella direzione che noi crediamo sia giusta andare, è chiaro che se sono proposte che non stravolgono il senso della legge, che sono di buon senso, verranno prese in considerazione, se vogliono cambiare il senso della legge e non si può accoglierle.